Ed è il giorno del sorteggio che regalerà a due dipendenti della nostra cara amata azienda un viaggio premio a Praga per la finale di calcio della Coppa dei Campioni! 1023! Premo Ricci, mi sa che te cercano! Ragazzi, dove vado io? A Praga! E se mi va di scherzze, ciao, 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 ciao! Hai fatto tante anche stasera. Non fare il pirla, se no non ci vai. E con chi andresca? Non so, con mezzo direttore, con di Milano, no? Facci, facci! Dottor Fumagalli, buongiorno! A me non mi ha portato mancare la disco! Oh, mi raccomando, una cosa del genere, la tua nonna non ti usci mai! Allora, perché la chiami Rinco? È pronto? Pronto, mamma? Mamma chi? Forse, mamma, gli dava una botta d'acqua fredda a questa! Vecchione! Faremo il viaggio insieme, complimenti, eh? A pezzare come sono vestito io, quel giretto! Ah, le piace? No, al canale mio gli piacerebbe... Ah, 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 ah! Tradizzo il sedile e non telefoni durante il volo. Scorrigetta la posso fare? Allora, allora, dove siamo? Noio, dove andare? Braga, una inchia! Ah, hai capito? Una minchia! Queste qua adesso stanno a guardar fisse, fisse qua, e sono due mignotte. Andiamo insieme! Ma che ha le due calle? Che calle, tu non era praticate! Ah, una mentina! Che ce fa, cane? E noi c'è uno specialista, ciò! Ce le imbrettiamo tutte e due! Io sono il pappone! Lo vuole il bombolone con la crema? Rita lo fa tutta la notte! Tutta la notte i bomboloni non ti faranno male? Strisciamo tutta la notte! Che tricchetto, che tricchetto, zan, zan, zan! Non ce posso fare! Come la trovo del merda, fumagato? Una macchina ti vuole! Occhio, marocchio, prezzemelo fino a... Ma proteggito dai mortacchi! Gitu! Come vuoi che mi svesti? Diciamo... Ammigliando dolce e bottana! Ciao, 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 ciao! Lei non sta bene, eh? No? No? Ti deve buttare salire dalla schiena! Au! Per cui lascia che i cozzi? È la morte sua, questa! Ma adesso succede che le nostre strade si dividono! Che dolore! La coppia dei campioni! Quella pionda! C'aveva un rubinetto sotto! Come ci ha creato questo? Sì, più o meno così! Dal 28 aprile al cinema!